Giovedì 24 giugno si terrà a partire dalle 19.30 la trasmissione in diretta streaming il padre maestro speciale live realizzata per dar voce al messaggio del santo di lucera egli infatti parla anche oggi attraverso i suoi scritti il suo pensiero e la sua opera su tanti aspetti problemi ed argomenti questo speciale live è intitolato in particolare alla questione ambientale chiamati alla cura del creato e come suggerisce il titolo è voluto per dare un contributo di riflessione su un tema sentito e attuale la questione ambientale la trasmissione è presentata dalla basilica san francesco d'assisi santuario di san francesco antonio fasani dal gruppo comunicazione fasani da studio 9 tv e da lucera by night ed è in onda sulle pagine facebook della basilica di studio 9 e di lucera by night nonché sul canale youtube di studio 9 tv interverranno il coro femminile della basilica santuario walter di pierro cultore di storia locale franco d'angelo presidente dell'associazione civica lucera non tace giuseppe pitta sindaco di lucera il professor mario tibelli padre vito manca e padre alexander cariglio che è il rettore del santuario di san francesco antonio fasani mercoledì 23 giugno in napuglia sono stati registrati 6.684 test per l'infezione da covid-19 sono stati registrati 63 casi positivi 18 in provincia di bari 4 in provincia di brindisi 7 nella provincia bat 4 in provincia di lecce 29 in provincia di taranto due casi di provincia di residenza non nota un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito sono stati registrati tre decessi 2 in provincia di foggia 1 in provincia di lecce scende a 5.937 il numero dei casi attualmente positivi di covid-19 in puglia via libera all'unanimità del consiglio regionale alla proposta avanzata ad antonio tutolo che chiedeva una modifica alle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di emissioni inquinanti in materia ambientale nello specifico è stato approvato un adeguamento a valori congrui della fideussione bancaria depositata dai soggetti autorizzati a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a garanzia delle attività di decommissioning degli stessi ripristino dello stato dei luoghi l'intervento legislativo che modifica l'articolo 4 della legge 31 del 2008 porta anche le firme dei consiglieri del gruppo CON Giuseppe Tuputi, Gianfranco Lopane e Alessandro Leoci passa così da 50 a 100 euro per ogni kilowatt di potenza elettrica il valore della fideussione a prima richiesta rilasciata per realizzare un impianto di produzione da energie rinnovabili a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto la somma di 50 euro era oggettivamente incongrua a garantire i costi reali di dismissione degli stessi e di ripristino del suolo dichiara soddisfatto il consigliere Tutolo perciò era quanto mai urgente e necessario adeguare i parametri reali di mercato per non ritrovarci fra qualche anno con un cimitero spettrale di pale e pannelli disseminati sul nostro territorio San Giovanni e i miracoli della terra è questo il titolo del press tour che fino a domenica 27 giugno racconterà gli italiani attraverso immagini, articoli e post sui social il patrimonio culturale, produttivo ed enogastronomico di San Severo per una settimana giornalisti, blogger e instagramers soggiorneranno in città e da qui oltre a raccontare ciò che vedranno San Severo si muoveranno verso Foggia, Lesina e Torre Maggiore il progetto ideato e promosso dall'amministrazione comunale San Severese è stato selezionato e finanziato dalla regione Puglia gli ospiti del press tour, dichiara il sindaco Francesco Miglio insieme all'assessore Celeste Iacovino conosceranno i luoghi di pregio del centro storico di San Severo visiteranno le cantine che meglio esprimono la tradizione e l'innovazione vitivinicola San Severese e attraverso post, immagini e video documenteranno in presa diretta il loro viaggio alla scoperta delle masserie dei pastifici delle aziende cerealicole e olivicole dell'Alto Tavoliere Grazie 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 Grazie